MOTORSPORT MANAGER E Q3 con entrambi i piloti Potrebbero essere addirittura due punti Errore sul click posteriore Abbiamo perso qualcosina Con 32 pit stop Il quindicesimo posto di George Russell A 10 punti Verlaine 17esimo con 7 punti Williams che conclude Comunque in ottava piazza Mitch Evans Ha accettato il contratto E poi incredibile con sesta piazza per Verlaine Anche la sua gara disastrosa Pascal Verlaine stava divulgando informazioni Gianni benvenuti al posto di Jonathan Eddow Schianto di Mitch Evans Si è toccato di nuovo, li ho visti vicini Penalità drive-thru per Mitch Evans Secondo posto per la Williams Verlaine in ultima posizione Evans chiude con una fantastica P2 Pascal Verlaine va a chiudere in seconda piazza Schianto di Mitch Evans Per la classifica costruttori Williams in quarta piazza Max Verstappen e Pascal Verlaine con Mitch Evans Pilota di riserva Max Verstappen podio all'esordio Con la Williams Verstappen che va a vincere questa gara Russell che vince davanti a Max Verstappen di meno di un secondo Verlaine ma sta facendo veramente male 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 Non è possibile, non è possibile Oviamo Mitch Evans, lo mettiamo al posto di Pascal Verlaine Max Verstappen va a vincere la gara di Singapore Voglio far correre Pascal Verlaine Max Verstappen vince Passi anche sotto safety car Max Verstappen sta andando all'ultima curva e nonostante tutto va a vincere la gara Non ci credo, mi serviva l'intervista per sapere che Max Verstappen è campione del mondo con la Williams Siamo campioni del mondo piloti Max Verstappen è andato a chiudere la sua gara Chiude in prima piazza Terza vittoria consecutiva per il pilota olandese Questo 2-4 ci garantisce che siamo i campioni della classifica costruttori con una gara di anticipo Ce la fa Max Verstappen, ce la fa Chiude anche l'ultima gara della serie Vincendo, questo è per te Alassad Ramson Non è possibile Verstappen vince davanti a Ricciardo E Ricciardo e Pascal Verlaine ancora una volta squalificato Charles Leclerc Campione del mondo Max Verstappen su Williams Grand Prix 9 vittorie, 14 poli, una gara DNF Rappresentante della squadra Alassad Ramson Campioni del mondo Williams Grand Prix Rappresentante della squadra Alassad Ramson Rappresentante della squadra Alassad Ramson